Oh bene 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 vale sempre la regola evidentemente del bastone e la carota dopo tante carote alle quali si aggiunge quella di cui parleremo tra poco c'è una piccola bastonatina che alla fine si rifà a tutti gli effetti al video uscito ieri per le 6 riguardo la situazione Calafiori in quanto poi pur in serata Di Marzio ha parlato di un giocatore sempre più vicino all'Arsenal perché effettivamente sembra a tutti gli effetti il club disposto a tirar fuori i 50 milioni richiesti dal Bologna per il cartellino di Calafiori e di quello fondamentalmente ne ho già parlato ne ho già parlato ne ho parlato anche abbondantemente in quanto è venuto fuori un video di praticamente un quarto d'ora e quindi insomma se non l'avete visto andate a recuperarvi quel video lì perché fondamentalmente andrei a ripetere le stesse identiche cose e dato che lì ci ho dedicato proprio un video per parlare a tutto tondo di quella che è l'operazione Calafiori e il futuro della Juventus per quanto riguarda l'eventuale difensore centrale andatevelo a recuperare magari nei prossimi giorni posso anche portare Emi sul canale in quanto essendo lui un match analyst professionista e anche uno scouting a tutti gli effetti gli si può chiedere vedendo quelle che sono le caratteristiche di Calafiori e quindi chi sarebbe il sostituto ideale se c'è già magari all'interno della Juventus stessa tra Uisen o Jalò o se magari il panorama internazionale può offrire a costi non particolarmente esorbitanti dei giocatori che potenzialmente possono essere in grado di fare lo stesso identico lavoro ma appunto in questa circostanza comunque non siamo qui per parlare di quello dato che l'ho già fatto ma per parlare di un'ulteriore notizia uscita ieri e che obiettivamente dal mio punto di vista è veramente tanta roba prima però di entrare nel merito come al solito ragazzuoli vi invito a lasciare un bel mi piace un piccolo rito ogni volta che esce un nuovo contenuto deve essere il mi piace d'obbligo e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi che al di là di tutto oppure quella roba lì non è che sia proprio da poco conto diciamo detto ciò intanto si può stare tranquilli anche per quanto riguarda Vasily e Azic perché anche l'altro giorno quando ho fatto una live sempre parlando di calciomercato giustamente qualcuno si era iniziato a preoccupare perché Azic nonostante avesse già compiuto i 18 anni ancora non era stato ufficializzato dalla Juventus ecco ieri è stato anche ufficialmente depositato il contratto basta andare sul sito della Lega e vedere tutti quei trasferimenti che sono stati già ufficializzati con contratti quindi depositati e per quanto riguarda la Juventus ci sono appunto sia Douglas Luiz che Vasily e Azic curioso vedere come con i primi due colpi ufficiali con i primi due contratti depositati la Juventus ha già terminato gli slot per gli extracomunitari ma di fatto questo è ma non è neanche questo qui il tema perché certo è un tema interessante come ha detto anche Romeone Agresti ieri non è da escludere che questi attriti tra Bologna e Juventus non è che riguardino non solo ed esclusivamente la questione legata a Tiago Motta ma pure proprio quella legata a Vasily e Azic in quanto a gennaio era di fatto un promesso sposo proprio del Bologna giocatore particolarmente apprezzato sia da Sartori che da Tiago Motta stesso e infatti quasi sicuramente il giocatore farà il ritiro con la prima squadra della Juventus poi presumibilmente si accaserà con l'Under 23 però potrebbe già sin da subito fare un'importante spola tra Next Gen e prima squadra della Juventus una totale conferma all'interno del pacchetto prima squadra mi stupirebbe ma ovviamente lasciamo del beneficio del dubbio perché per carità di Dio non guasta veramente mai però riguarda Kefren Turam riguarda per l'ennesima volta Kefren Turam perché attorno a questo giocatore noi avevamo parlato in lungo in largo anche con Emi di quelle che sono le caratteristiche di quelle che sono le qualità di come può tornare effettivamente utile all'interno della Juventus di Tiago Motta con Giovanni e anche tra di noi abbiamo parlato dell'operazione un'ottima operazione sulla base di 20 milioni più 5 di bonus ad una cifra che è veramente tipo la metà di quella che ti avrebbe chiesto l'anno scorso il Nizza e non perché nell'ultima stagione il giocatore abbia fatto esageratamente cagare ma perché ha un contratto in scadenza nel 2025 e quindi questo ti ha portato a poter sfruttare quella che in termine tecnico viene chiamato opportunità di mercato solo che c'era un problema a tutti gli effetti c'era un problema perché di fatto fino a 24 ore fa anche probabilmente no il giocatore faceva parte della lista della nazionale francese che avrebbe partecipato ai giochi olimpici per quanto riguarda il calcio insomma e considerando che si tengono mi pare dal 24-25 luglio al 10 d'agosto questo avrebbe significato che intanto il giocatore il 10 luglio ovviamente non sarebbe stato a Torino avrebbe saltato praticamente tutta la preparazione perché facendo un torneo una competizione che finisce il 10 d'agosto dove tanto per cambiare la Francia è una delle squadre favorite figuriamoci a maggior ragione se la competizione si svolge proprio in terra transalpina figuriamoci anche senza che Frenturam ha una squadra dir poco clamorosa la Francia e va bene e quindi anche poi sai comunque non è che metti arrivi fino in fondo e il giorno dopo sei regolarmente alla continascia poi giustamente come sappiamo come funziona anche per la Coppa America per gli europei e quant'altro c'è poi qualche giorno di riposo quindi questo sarebbe stato a significare che per quanto magari già nel weekend il giocatore potenzialmente potrebbe fare le visite mediche con la Juventus prima di vederlo a tutti gli effetti sul campo con addosso un qualcosa con la J probabilmente si sarebbe dovuto aspettare addirittura all'inizio delle competizioni ufficiali tra una cosa e l'altra mentre invece ieri Thierry Henry ci ha dato una notizia meravigliosa dove in tutto questo ha fatto anche lo snitch perché ha detto guardate la nuova squadra di Frenturam ci ha chiamato ha detto che non vuole che il giocatore farà con noi gli olimpiadi e quindi che Frenturam non farà parte della lista quindi la vera prima grande ottima notizia è che a tutti gli effetti Thierry Henry ha confermato che quantomeno che Frenturam non è più un giocatore del Nizza perché ha parlato di nuova squadra poi a livello giornalistico quantomeno non si è parlato di altri club quindi questo magari può tranquillizzare un pochettino i San Tommaso quelli che finché non c'è il comunicato ufficiale non credono a Frenturam alla Juventus facendo un pochino la spia raccontando questo retroscena tutti quanti più tranquilli tutti quanti più tranquilli tutti quanti più sereni e va benissimo così in questo modo che Frenturam praticamente da subito sarà regolarmente a disposizione di Tiago Motta della Juventus anche perché vedendo il numero di interpreti che cambieranno rispetto alla passata stagione vedendo che c'ha a tutti gli effetti una guida tecnica differente rispetto alla passata stagione e devi fare una preparazione importante soprattutto considerando quanto sarà lunga la prossima stagione quanto sarà impegnativa con una partita di fatto ogni tre giorni da dopo Ferragosto fino nella peggiore delle ipotesi a fine giugno qualora dovesse andare bene se arriverebbe anche a luglio e beh iniziare in quel modo poteva essere un pochino problematico poteva essere un pochino problematico ma per fortuna tutto quanto si è risolto nel migliore dei modi questo anche perché da quello che ho capito insomma le olimpiadi non sono sotto la FIFA non sono sotto la UEFA ovviamente in quanto con le olimpiadi partecipano anche nazionali di altri continenti e quindi anche la FIFA stessa poteva fare relativamente poco la Juventus ti dice no lui alle olimpiadi non lo porti il giocatore non va e questo è un bene perché per l'ennesima volta ti fa anche capire che anche proprio dal punto di vista dirigenziale tira un vento decisamente diverso rispetto al passato dove prima magari avreste anche chiuso un occhio magari alla volontà del giocatore magari gli fa piacere ma se dai facciamogli fare pure le olimpiadi anche se questo non va proprio a nostro favore invece cazzo qui il centro del mondo giustamente deve tornare ad essere la Juventus e così è e quindi che friend to run le olimpiadi oh non c'è cazzo che tiene non le fa a maggior ragione poi se si parla di un trasferimento dove va in un club nuovo dove si deve ambientare nuovo paese nuovo modo di giocare nuovo allenatore nuovi compagni arrivare a fare il primo allenamento quando magari sono già iniziate le competizioni ufficiali insomma non è neanche la cosa più bella del mondo è bene così sinceramente bene così vedete bastone e carota bastone e carota detto ciò per quanto riguarda altri piccoli aggiornamenti si parla che Facundo Gonzales pare possa essere il primo acquisto dell'Udinese con la formula del prestito più diritto di riscatto giocatore che tutto sommato non aveva fatto male l'anno scorso alla Samp però ecco non è che si parla di movimenti esagerati né dal punto di vista tecnico tattico né tantomeno da quello economico e quindi va bene però è una notizia e per dovere di cronaca è giusto riportare pure quella Galliani ha parlato che è presto per parlare di mercato quindi non parla riguardo Wojciech Ciesni dato che gira questa notizia riguardo all'interessamento del club di una possibilità di ingaggiare Ciesni di fare il contropartita più conguaglio per il cartellino di Michele Di Gregorio a questo punto viene da pensare e vedremo sinceramente come si svilupperà qualora si dovesse effettivamente virare verso questa possibilità rispetto che quella araba mi immagino una Juventus che in parte contribuirà allo stipendio allo stipendio perché sincero dubito fortemente che il Monza arrivi a pareggiare o anche solo a offrire uno stipendio poco più basso rispetto a quello che il giocatore percepiva la Juventus considerando che si parla di tipo 7 milioni 7 milioni e qualcosa mi immagino che parte di questa cifra verrà in caso pagata dalla Juventus magari come incentivo all'esodo insomma non lo so buona uscita tra virgolette vedremo d'altronde è una richiesta è una volontà della Juventus di scavarsi dei maroni e quindi sai magari poi devi andare incontro anche a queste cose qui poi certo si continua a parlare di Federico Chiesi in ottica Roma ma sinceramente dal mio punto di vista sembra ancora un pochino tutto quanto un po' prematuro no anche se come abbiamo detto anche ieri l'europeo indubbiamente non l'ha messo in vetrina non l'ha messo in vetrina non ha sfruttato neanche lui la vetrina dell'europeo per cercare di convincere quanti più club possibili qualora ritenesse davvero che la sua avventura alla Juventus è da ritenersi conclusa e non lo so anche lì bene o male ci ho fatto un video ieri che se non avete visto vi invito ad andare a recuperare dove sinceramente pure lì c'è avrei poco da aggiungere rispetto a quello che ho detto lì quindi in caso andatevi a recuperare pure quello e fatemi sapere la vostra con un commento la cosa indubbiamente più importante è che Frenturam già praticamente tra una settimana potenzialmente può essere regolarmente alla continassa quindi tutto sommato va bene così poi per quanto riguarda tutti gli altri discorsi o siamo al 4 di luglio il mercato finisce l'ultimo giorno d'agosto vien da sé che ancora la solfa è lunga per quanto la Juventus indubbiamente avrà da fare tanto davvero tanto ma di tempo ce n'è e al 4 luglio ha già sistemato diverse situazioni tra entrata e uscita e quindi tutto sommato va anche abbastanza bene così voi appunto ragazzuoli belli fatemi sapere tutte le vostre varie considerazioni qui sotto con un commento io vi mando un grosso abbraccio e tanto per cambiare fino alla fine Forza Juve Forza Juve